Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova serie insieme al culo! Ciao culo, come stai? Tutto a posto? Sì, ciao! Allora, dove siamo? Racconta dove siamo, esattamente, perché è una cosa importantissima, perché siamo su una mappa che nessuno ha al momento ancora. Siamo quasi i primi ad averla per una fortuna in realtà, direi. Per qualche secondo che abbiamo avuto. Esatto, abbiamo avuto. E siamo sulla nuova antfarm, che uscirà il 5 maggio, però noi l'abbiamo in esclusiva oggi che due. Se non avessimo questo video, probabilmente quando uscirà sarà il 3, domani forse, non lo so. Beh, comunque, quando uscirà questo video, comunque l'antfarm non sarà ancora riuscita, quindi ce l'abbiamo in anteprima. È una figata, e io la giocherò insieme a culo in multiplayer. Ovviamente le regole sono sempre le stesse, vabbè, però lo troviamo qui. Che sono in sostanza tipo non cambiare game mode e divertiti. Wow, Morduk divertiti, fai vinta che ti diverti. E poi sta scritto, è una regola, è una regola. È una regola, quindi devi divertirti. E ovviamente l'altra notte è che comunque queste mappe non sono testate per il multiplayer. Ed effettivamente non dovremmo fare due dungeon alla volta. Quindi il consiglio è comunque che andremo sempre nel dungeon da soli. Cioè nel senso insieme, prenderemo un dungeon alla volta e lo faremo insieme per forza. Quindi siamo i primi due a farlo in due. Esatto, e anche i primi due a farlo da soli in sostanza. Cioè tutto così. In realtà l'ha fatta anche Ant Venom, che è un youtuber americano che collaborerà con il creatore della mappa. Ok, però noi in realtà siamo quelli che, siamo i primi youtuber che non ce l'hanno come collaborazione diciamo. Che culo! Morduk sei pronto? Sei pronto alla battaglia iniziale? Ok, allora. Andiamo a cliccare il tasto qui. Bam. Inizia. Aia, non funziona. Ah, non funziona perché i command block non sono attivati. Morduk doveva attivarli. Giusto. Ok, allora possiamo quindi cliccare finalmente. Mi dispiace per questo piccolo errore. Ma in realtà vorrei che ci fosse anche di default. E allora è stato, siamo in survival mode, c'è Cleanse, Forget, Collapse, Fall. Che diamine è, cos'è un pezzo? Comunque ovviamente qui c'è tutta la zona che si sta caricando, ci vorrà un pochetto. E abbiamo una text... C'è un pochetto carico. Ah, va a cagare. Morduk si è spoilerato una parte ragazzi, quindi è un po' stronzo. E questa cosa, questa è una zona dove ci porta all'altra parte, vero? Perché da quello che vedo, tipo, c'è una costruzione... C'è la mucca, un paio di mucche ci sono lì. C'è ciò che ho perso, dove si è andata? Sto qua, sto qua, dietro di te, Morduk. Vedi? Ah, ok, ti vedo. Ok, e direi che è tutto distruttibile, quindi dobbiamo iniziare senza problemi, credo. Vediamo un attimo qui sopra che c'è. Sì, dobbiamo cominciare a farmare robina, a rompere tutto quello che c'è. Ok, allora direi, iniziamo a farci delle armi per il momento. E cerca di non uccidere mucche o cose del genere, perché in realtà non sarebbe proprio l'ideale. Aspetta che devo abbassare un po' il volume, perché... Dov'è il volume? Qua. Ok, ce l'ho un po' altino, ce l'ho. Ok. Fatti un po' di alberelli e cerca di anche ricuprare gli alberelli, se escono in qualche modo, perché non lo so nemmeno se escono. Sì, sì, escono, escono. Escono? Fatti ci danno a me là e un albero adesso. Che culo, ok, una ci serve. E dobbiamo trovare, tipo, un po' di roba per iniziare. Morduk si è spoilerato, come vi stavo dicendo, una parte di mappa, perché Morduk fa schifo. Però solo una parte in cui... Se la sei spoilerato. Ragazzi, io mentre stavo caricando il sedere, sono 170 mega di mappa, immaginate quanto ci volete a caricarla. Lui è andato lì tranquillamente, ha fatto me, me lo guardo di single player. E no, Morduk, no. Morduk, devi dire alla gente che l'hai fatta a posto e sai tutto quanto, perché se c'è arrivato l'ultimo capitolo in 5 minuti... Magari. Magari. Magari, ragazzi, manco all'inizio è arrivato, dato che è già morto, quindi immaginiamo. Ma... Mi è morto 5 volte, è appena iniziato, quindi dico tutto. Eh, non c'è qua. Ah, Cobblestone sta qua, ok. Fai così, fai un piccone tu, così. Non facciamo due piccone alla volta, sarebbe stupido. Ah, è vero che possiamo spingerci, attento a non spingermi i trovori, che siamo 1.9.2. Esatto, non di spingere. E... Faccio io il piccone, e faccio il piccone? Ah, faccio io il piccone, dai, faccio... Guarda, tieni, ti do l'altra legna se vuoi. Esatto. No, aspetta, mi faccio qualche altra roba anch'io, fate l'ambeco. Fa cagata, che schifo, ragazzi. Ma faccio lì, faccio il letto, faccio i letti io. I letti, dove hai rubato la lana? Eh, qua sta la lana, guarda. Cioè, c'è della lana di colore, che cos'è, tutto grigio? Ah, uh, col, 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 anche. Eh, prendi, prendi, facciamo i letti perché possono essere utili. Eh, prendo anche del col, nel caso servisse per le torce, proprio il momento, fin quando non fa notte, non avremo problemi. E niente, come in qualsiasi ant farm, siamo in un posto normale che sarebbe in sostanza, c'è tutta sta roba qui, in sostanza, cioè, in una zona delle formiche, in sostanza, sì. Ma no, una ulisse, come ti spieghi bene, sì, è una farm... Eh, vedi che ho dato una parola giusta, Mordo, fai schifo, ok? È una teca, sì, è una gabbia per formiche. Una teca, no, no, gabbia, gabbia sa tanto di cose brutte. No, una teca per formiche, teca sa tanto di zona carina e coccolosa, capito? Allora, dici teca perché ci sta. Cosa vuoi, Mordo, che è precisamente una spada? Iniziamo alla faccia della spada. E vedi che te regalo, tiè. Oh, un letto, grazie, Mordo. Io ti regalo una spada, Mordo, vedi? Siamo davvero gentili oggi. Siamo molto gentili, è una cosa che adesso non serve a una mazza perché era più divertente un piccone. Eh, espi, ce l'ho qua, vieni qua, tieni, vieni qua. Ah, no, ce l'hai il piccone solo per te, no? No, per te l'ho fatto anche, ovvio che l'ho fatto per tutti. E allora, la legna ce l'abbiamo un po', in realtà direi che iniziamo a vedere prima di tutto come è fatta la zona perché voglio capire anche come è fatta. Allora, di qui si scende, ok, però, vediamo un attimo, da questo lato c'è qualcosa. E adesso ci sono delle ceste tu quando hai fatto il sopralluogo iniziale. Allora, no, ceste no, però so che qui giù c'è una zona con un po' di ferro. Eh, però... Allora, prendo un attimo quel colo che sta all'inizio, così posso iniziare. Se vuoi tu puoi scendere giù e farmi vedere un attimo la strada appena possibile, così possiamo anche dividerci un po', anche perché ragazzi vedrete entrambi dei visuali, uno sul mio canale, una sul suo canale, che stai cercando. Attento, però ci sono dei silverfish. Eccolo. E qua, c'è un tipo 3-4 pezzi per quello, giusto per prenderlo. Ok, no? Infatti, giusto per farsi almeno un paio di torcette, perché penso che là sotto è buio, eh. Eh, sì, e ve lo dice altro coal, c'è del ferro, c'è un binario, credo che ci sia una miniera. Non è una miniera più giù, se non erro, guarda un po', sulla tua sinistra. Eh, più che altro come scendiamo, guarda qua. Eh, ora te lo faccio vedere, aspetta, guarda. Dobbiamo scendere lateralmente, presumo. Allora, no, ce n'abbiamo una che sta qua sotto, le miniera. Dove stai? È quello che ho visto. Eh, sto sopra, un attimo, ha fatto quattro torce contate. Ah, ok, ok. Uh, lì, ullì, di qua, di qua. C'è un modo per scendere? Non cascare. Ah, ok, c'è. Ah, ok, continua, perfetto, ok. Oh. Guarda la roba che c'è. Uh, prendi del ferro, prendi del ferro, va. Aspetta, metto un attimo dei torci, perché ci sono un sacco di mob qua sotto. Ok. E' una valanga. Eh, ricordati che siamo 1.9.2, quindi, ragazzi, combattimento a chi li fa. Oh, chi li spara? Gli arcieri. Ok. Attento a non farti beccare e non morire, probabilmente. A me mi massacra, gli arcieri. Oh, guarda, gli zombie stanno venendo all'ora. Eh, gli arcieri sono potentissimi. Stanno venendo a trattare loro. Mi sa che ci andiamo, fai, mi diamo anche gli scudi, non vorrei dire. Morduk, no, non per dire, ma non tanto gli scudi. Dovremmo farci, magari, non gli pvp assieme. Dopo lo leviamo, non è mezzo, va. Perché, conviene. Non morire, Morduk. L'ho ucciso. Tanto che abbiamo anche del cibo, non abbiamo. Attento, Morduk. Guarda, ok. E per quello che dicevo, facciamo le torcine, perché così almeno ammazziamo questi animacci. Ok, vedi che ho tipo 7 pezzi di ferro già, quindi siamo davvero messi benissimo. E lì non ci arrivo, però, vabbè. Vedi, si riesce a prenderlo tu manualmente, però non credo ci arrivo tranquillamente. Maledizione. Dì un po' che c'è qui sotto. Eh, c'è una bella zona carina, carina, con un po' di legno. Presumo che ci siano tipo di ragni avvelenati. Sì, sono avvelenati. Anzi, sono avvelenati. Eh, quali... Io non l'arco non l'ho preso, ho preso soltanto una stronzatina che tipo una freccia. Ci arrivo, sì, ci arriva. Ci arrivi? Sopra? Ah, aspetta, aspetta, no. C'è un clipe. C'è un po' di cobblestone. Attento, non farlo scoppiare, possibilmente. Eh, una parola. Eh, basta che non muoio. Morduk, sì che tu... Io stavo di qua, guarda lui, dov'è. Sì, vabbè, Morduk, Morduk. Le scuse, Morduk. Ti dicono non farlo scoppiare e tu lo fai scoppiare. Ma hai scoppiato solo. Ricordati, io sono... Cosa, cosa, cosa? Io sono il capo di questa serie, quindi Morduk dovrei seguire tutti i miei consigli e tutte le mie... Cerca di non farmi cadere che sono con shift, possibilmente. Eh, non so io, ce lo schieto. Guarda. Ah, no, ok, beccate, beccate. Sta puntando te, sta puntando a me. Sta puntando me? Sì, sì. Ma pezzo di merda! No, vedi che non sta puntando me. Pezzo di merda! Morduk! Guardo, vieni contro di me! Stronzo! Vieni contro di me! Proprio, c'è, c'è. Eh, ma è proprio cattivo, eh! Proprio cattivo dei cattiveri. Ma quanti cuori c'ho? Io c'ho due cuore, un cuore e mezzo, eh. Non ci morire, così. C'è Kriber, c'è Kriber. No, ma non castrato. Non ci morire. Eh, ma che dice, mettiamo la... Tip in vento di no, non credo. Ma porca merda! No, no, Morduk! Morduk c'è mezzo cuore! C'è mezzo cuore, Morduk! C'è mezzo cuore, Morduk! No, porca vacca! Ok, morduk che tempo di sedia sopra. Ok, ok, calmati. Porca vacca. Quindi siamo ancora più messi male. Vedi, se c'è trovare un po' di mele, va? Oh, me la fa, un attimo di grano. Tanto la mela qua, ho trovato. Ok, una me la so mangiata io. Eh, anche me la sto mangiando adesso. Oh, la cosa bella è che qui la rigenerazione è molto più facile rispetto ad altre serie. Però devi comunque mangiare prendemente. Porca miseria. Vieni un attimo giù, ok. Oh, creeper, ciao. Eh, stanno i modi pure là dentro, dentro la casa. Eh, lo so perché sei buio. Allora... Ci sono allontanati, ci siamo. Porca... L'ho quasi ucciso, sto creeper. L'hai ucciso? L'ho ucciso, l'ho ucciso. Oh, merda. La grafting della si è portata giù? Sì. Ok, allora me ne faccio una e la lascio qua sopra. Morduk? Dimmi. Porca vacca. Ucciso da uno zombie. Morduk? Morduk? Aspetta. No, no, più che altro mi ha beccato vicino al muro. Quindi, in teoria, ce la faccio a passare e ucciderlo. Aspetta. Qualcosa di decente? Qualcosa di decente? Aspetta la spada. Devo farmi, da farmi in amber, da farmi... Ah! Vale. Ok. Aspetta, ce la faccio. Aia, non fuoco. Ehi, ma pure in focato. Guardate come muore il signor Lulis. È che non sono abituato a fare le mini mappe con... C'è la mappa con la cosa con... Ecco, abbiamo un problema. La coltivazione ancora non possiamo farla. Perché? L'acqua. Perché manca l'acqua che sta dall'altra parte del mondo. Eh, vabbè, tanto c'ho del buono. Nel caso, dopo, prendiamo un po' di roba e... Vieni giù, Morduk, se riesci. Che sto andando un po' avanti. Sto andando un po' avanti. Sto andando un po' avanti e mezzo. Eh, ok. Non dici morire, magari, possibilmente. Guarda che il coltivatore da cobblestone va. Eh, sì, è colpa tua, Morduk. Meno male, abbiamo un po' di torce facili da fare anche. Non è che dici difficile. No, è facile. Ok, ok. Ma io ho... Ah, il mio coal? Dov'è? Io avevo del coal? St'ape terra incogionito. No, lì, ma ce n'ho altro, ce n'ho altro. No, non ce sa. Sì, ce n'ho altro, ce n'ho un botto. Ce n'avevo, ce n'avevo, ce n'avevo, ce n'avevo, ce n'avevo. E come faccio aperto? Ma dove li avete finito? Ti ce n'ho morto, ce n'avevo, ce n'avevo. Cacchio, ragno. No, che ti amini, ce n'ho un botto. Ora sta in queste... Ti giuro, Morduk, ce n'avevo un casino, ce n'avevo. Hai detto bene, ce n'avevi. Ah, porca vacca, vabbè, ho perso un po' di cola, ragazzi, tranquilli. Vabbè, tanto cola ce n'è un po' ovunque, quindi nemmeno prendiamone tutto, cioè direi proprio tranquilli. Ma sì, pure le miniere qua sotto c'è un sacco. Oh, lì, e lì, Morduk, c'è qualcosa, c'è un creeper e c'è qualcos'altro, presumo. Lì c'è un creeper, pure da qua c'è un creeper. Vabbè, faccio un po' di torcia, va, così possiamo torciare. È pieno di creeper. Iniziamo a torciarci più in più, più in alto la zona, per il momento. Vieni qua. Fatti quello che sto a fare. Ah, è vero che posso metterlo anche a secondo slot, così posso fare cose... E se ci facciamo uno scudo? Lo scudo si fa col ferro, se non sbaglio. Eh, sì. Ferro e legno. Abbiamo del legno, abbiamo del bombillo in caso, quindi il legno si fa. Facciamoci uno scudo contro gli scheletri, direi che la cosa migliore è perché... E allora dobbiamo risalire. Ok, risaliamo sopra e facciamo lo scudo. Mi sono stato pure buio, Ulid. Eh, lo so, quindi... Ma vieni qua, vieni qua più che altro. Dove sei? Possiamo stare qua e mettere i letti qua, tanto sti cavoli non è un grande problema. Ok, metti il letto da qualche parte, ok. Spero che si possa utilizzare in realtà il letto. Ok, si può fare. Sì, si può usare. Perfetto. Wow, meno male il letto è stato la cosa migliore all'inizio, si può fare... Stai a posto. Recuperiamolo perché tanto ci servirà in futuro. Tieni la crafting table e facciamo... Allora, scudo se non sbaglio, si faceva con un pezzo di ferro. Facci pure il ferro corto, aspetta, fai una forza. Sì, aspetta, metto un attimo qui, metto questi a cuocere. E continuiamo a esplorare nel frattempo che cuoce però, perché tanto siamo là. Ok, metto altro ferro a cuoce, quello mio. Ce l'ho aggiunto. Ok. Guarda. No, no, tranquillo. Ok. Ci vogliono più colpi per uccidere lo scaretto, cioè il coso, scusami. Eh sì. Perché... Il fatto dei colpi ogni tot. Eh sì, è un bel problema, perché altro è l'abitudine, ragazzi. Non tanto il fatto che sia difficile, ma l'abitudine. Oh, oh merda. Morduk! Porca va. Torna immediato, torna immediato. Eh no, non possiamo andare in giro con gli scheletri senza uno scuro. Esatto, è quello il punto. Torna immediato. Ok. Ho fatto un po' di legno, ora se non sbaglio era così. Giusto? Stanno venendo addosso di cattiveria. Lo scheletro di prima. Oh, ho fatto lo shield. Guarda, guarda, lì se come muore. Morduk non riesco a farti un altro, riesco a fartene. Mi dispiace. Guarda, lì se come muore, eh. Morduk ce l'ho scudo io. No, è rimasto là. Fai un po' di legna, ti do il ferro. Tieni. Morduk, attento! Stai con me, sono con cuore, cavolo. Vieni qua, colpisci, mi stronzo. Colpisci. Oh, ma sai che lo tira pure indietro la freccia, tira? Aha, figata. Prendi il ferro e direi che potremo anche in teoria concludere qui questa prima puntata. Non so quanti minuti siamo. Però abbiamo prima visto un'esplorazione molto tranquilla. Facciamo un po' di ferro così possiamo farci l'armatura anche. Abbiamo 22 pezzi, quindi un po' di roba si può fare. Mezza armatura? Mezza armatura a testa, direi che è perfetta. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volessi vedere altre puntate, mi raccomando, spolliciate per questa nuova serie che in teoria è una serie fantastica. Ve lo farei subito con Morduk, infatti li stiamo parlando da da un mesetto probabilmente, ne stiamo parlando. Sì, un mesetto più o meno. Quindi, davvero, non vedevamo l'ora che usciva la mappa, abbiamo davvero aspettato ogni minimo giorno per vedere se era uscito il download. E per fortuna l'abbiamo anche trovato in tempo prima di tutti, quindi GG per noi. Mamma mia. Ragazzi, noi ci vediamo presto con un nuovo video. Morduk è culo per chi non lo sapesse, quindi chiamerò culo ogni o qualche volta quando capiterà. E un lezzo puzza. E un lezzo puzza come secondo termine per chiamare me. Da lì c'è tutto e anche da Morduk. Ciao, ciao ragazzi e al prossimo video.